Un finale al Cardio Palma regala alla Infodrive Capodorlando una vittoria quasi insperata. Un tapin di gatti sulla sirena fa esplodere la Infodrive Arena e l'Orlandina trova la prima vittoria dei play-in gold quando ormai tutto sembrava perduto. Monopoli gioca bene e con un ottimo quarto periodo si porta davanti con 16 secondi da giocare. Un canestro di La Quintana vale il 76 a 77 ospite. Time out Orlandina che porta un complicato tiro di Caridà che va corto sul primo ferro ma per fortuna dei bianco-azzurri a risolvere tutte le magagne ci pensa Patrick Gatti, reattivo per il tapin che dà la vittoria alla squadra di coach Bolignano proprio allo scadere con il pubblico invisibilio. Pensare che l'Orlandina aveva messo la gara nei giusti binari portandosi sul 21 a 12 dopo 10 minuti di gioco. Monopoli però squadra composta da elementi di esperienza come La Quintana, fratello del Tommaso visto qui in A1 oggi a Brindisi, Valerio Amoroso e Claudio Tommasini non si scompone e con un secondo parziale da 17 a 30 si porta avanti all'intervallo 38 a 42. Al rientro dagli spogliatoi l'Orlandina aumenta l'intensità difensiva e firma il sorpasso con Iasaitis e Palermo. Una tripla di Moltrasio firma il più 5 ma ci pensa Tommasini a imbucare la tripla del pareggio e si va all'ultima pausa sul 62 a 62. Il quarto quarto è un susseguirsi di emozioni e scambi tra le parti. Iasaitis sembra indirizzare la gara per i bianco-azzurri firmando il più 4 a 3 minuti dalla fine. Poi una tripla di Tommasini di tabella cambia l'inerzia del match nonostante i canestri di Marini e Palermo La Quintana con 4 punti consecutivi firma il sorpasso a 16 secondi dalla fine. Il resto è storia, Gatti fa esultare la infodrive arena come non succedeva da tempo e il primo posto in classifica al momento è salvo.